E parliamo ora della pista Enrico Mattei pronti per il decollo, altri scali aeroportuali sarebbero interessati a creare una rete commerciale e turistica. Sentiamo Mimo Spina. Il 30 aprile scorso ricorreva il cento e decimo anno della nascita di Enrico Mattei, una personalità tra le più significative del dopoguerra. Petrolio a parte, in Basilicata la sua figura è ricordata anche per una pista che porta il suo nome. Pista che è anche sinonimo di speranza e metafora di un decollo di una regione che non può perdere la coincidenza con Matera 2019. Ma quali le novità che la riguardano? Noi abbiamo una gradualità da rispettare, che è una gradualità che ci impone l'ENAC, che è l'ente nazionale per l'aviazione. E' una gradualità che vuole, questo lo impone a tutte le piste e gli aeroporti, che gradualmente si debbono conquistare stadi di efficienza accompagnati dai servizi, fino ad arrivare all'aeroporto di carattere di interesse nazionale e di carattere commerciale, che per indenderci è l'aeroporto con i voli di linea. Noi siamo in una fase intermedia. Il futuro di questo importante aeroporto, quando lo diventerà, sarà strategico anche per il commercio di una regione, ma anche forse di una buona parte del sud Italia. I servizi che mettiamo in campo, gli aiuti pubblici che possono venire, più la capacità imprenditoriale della gestione faranno molto. Accordi di partenariato sarebbero stati conclusi tra Winfly, la società che gestisce l'aeroporto Enrico Mattei di Pisticci, in provincia di Matera, la direzione dello Scalo Cristoforo Colombo di Genova e Ardorica, per puntare il timone verso i Balcani, grazie ai collegamenti già esistenti su Tirana, Spalato, Zara e Scofie, e per sviluppare altre rotte. L'Enac dice strutturate con sempre maggiori servizi, sempre potenziandoli, la pista e nel frattempo avviate anche attività sperimentali. Il gestore sta facendo proprio questa parte. La pista Enrico Mattei, dunque, è in attesa del via anche dalla torre di controllo della politica, per diventare parte di una rete di comunicazione, di cui la Basilicata ha fortemente bisogno per progredire.